Pensa prima di agire Pensa, viva di ferire Ripara le sue armi e fanno male Codiare è facile Essere generale è diverso, richiede intelligenza Gli strumenti per offendere sono diventati più sofisticati La tecnologia non deve essere utilizzata Come strumento per ferire e creare conflitti I commenti falsi o umilianti possono diventare virali e fanno male Tutte le offese rivolte sono frutto dell'ignoranza, della paura e di pregiudizi Chiedere aiuto è un passaggio cruciale per far rismettere i bulli I bulli online sono dei perdenti Non sono più forti di voi e non sono più figli Pensa prima di giocare Pensa a cosa prova Chi si trova a considerare Di non farci la più Senza al male che tu fai Come le parole che Fanno un pece e fanno male Bully Stop 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 Grazie.